Le prossime ore sono cruciali, calcare, che devi muovere con incursioni velocissime. Ti prepari, fai un respiro profondo e zack, entri al volo su Walsam. Guardi che cazzo di foto ti ha mandato secco, che sicuramente è una cosa importante, eh, per nutrire il dibattito intellettuale di sto paese, e poi esci subito. Non visualizzare nulla di quello che ti scrive lei. Tu non sai niente, non hai visto niente. Devi poter negare fino all'ultimo, pure davanti al gran giurì. Mordi e fuggi. Guarda la foto della carpa che fa i bocchini, tanto è di quello che stiamo a parlare che te manda secco. Poi torni nell'ombra come un assorcio. Grazie a tutti.